La Junior la faccio Non vuol dire che ci va il CbS, assolutamente pesa Ah beh allora c'ha ragione, se è così c'ha ragione Ascolta me, ascolta me, stai sospisso Quindi riescono a vendere i diritti al CbS Ma la CbS è una litetta americana È americana vero? Jay accettati Ma è strano perché non comprano la Major League e le altre e comprano questa Credo facciano le finale Ma infatti io l'ho detto, guarda, secondo me se Occhio tozzene uno dietro Cioè se vendi la finale e le altre partite importanti per me non è un problema Però che senso ha lasciare tutte le altre senza riprenderle Cioè fa almeno una commerciale, due in finale, quarti di finale, quello che vuoi Commerciale che li vende i diritti Però ci deve essere un'altra parte educational Cioè hai capito? Le partite per esempio di Lecco, Clapham, Revolver non le hanno presa nessuno Vecchio, beh allora io infatti la mia idea è partita da lì Gira, gira, gira Sinistra Comunque vabbè andrò a lavorare con loro lì a Londra Sì William Sì William Va bene? Un, tre, un, tre Per chi? La parecchia E poi proprio è gratuita, faccio in testa Vai, vai C'è il bruciolo All'altro mi attaccati subito Verso, verso Guarda a presto, guarda a presto Li fa studi, li via, lo studi Bravo al tempo Bravo Wow Ah Vai casta, sinistra Sii Grande bombe Grande bombe Questo non data una bella cosa Vieni dal suo verso, vieni dal suo lato, più lì, ok? 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 Maglio? Maglio! Maglio se cresce e dov'entrare! Destro! bravo destra perfetto bravo 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 vuoi parlarci di qualcosa stavamo facendo un'interessante disamina sulla vendita dei diritti televisivi della coppa del mondo alla cbs c'è stata questa c'è stata questa come dire news di sgav da confermare però sarebbe ottimo io non ho mai visto la cbs scoprire il frisbee però sarebbe una interessante novità facciamo la telecronaca al pull partiti pull dei red bulls siamo a 3 a 2 per i red bulls contro il cota sgav col disco che punta un butto ma non ci riesce che non vorrà assolutamente che io dica più che ha il disco dopo questa cagata c'è la gulla c'è la gulla c'è la gulla si apre davanti per Mastrino ed è meta 4 a 2 per i red bulls non scherzo non scherzo non scherzo non scherzo non scherzo ma tra due per i red bulls e vado questo ob shore hanno visto Pingu Puntini Balduzino Betto Totte Raccari rilas정ata Carriche sparaه per Balduzino bulla il disco allaah dagli alaltro al Fin e si riparte con il disco da ping oh intercetto e l'inter una vecchia non si vede un cazzo qualcuno è lungo vai tranquillo bello bello calo si calo è già tornato a giocare ho sentito infatti siamo molto contenti del suo ritorno prima però ha perso il 17 off bello bello la rossa spacca col disco non è un pozzare adesso c'è stai che ti fa bro Sinistra! Sinistra! Dai, dai, dai! Forza! Sinistra ancora! Bravo, escludi, escludi! Sinistra! Sinistra! Allo pippo! Bro! Alza il piede sinistro che te lo tira contro! Dai, dai, dai! Eccolo, golo! Eccolo! Eccolo, golo! Eccolo! Eccolo! Eccolo, golo! Sinistra, sinistra, sinistra! Sinistra, sinistra! Solo sinistra, eh? Sì, schiattolo! Sì, schiattolo! Non lo so, non lo so! Non abbastanza per lui. Pedala! Rega, attacchiati però! Pippo, Pippo, Pippo! Vai, vai, Pippo, Pippo! Sono davanti, sono dietro, sono dietro, dai! Lassi, attaccati! Lassi, attaccati, non deve aprire! Lassi, attaccati! 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 Lassi! grazie attento col te, attento col te lo gioca sinistra, solo sinistra solo sinistra dai bingu Rilasol questo è un style non mi viene bene il video bravo bro ero a due leader alla coppa europea avevamo tutte le storie qua erano i bidoni e la gente li usava come panca arrivavo io li spingevo avanti mi spingevo e mettevo i piedi destra 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 però forse è un po' da filmare dentro 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 stami al time di là fu male fu male stai 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 difesa stai 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 non intendo stai Grazie a tutti. E' sempre escoriazioni varie. Sono scomodi quelle lì o no? No, sono borgi. Ma ti sembrano ok? Sono buone. Senza queste però non vado mai in bagno io. E' un'altra volta. Tutti i piccoli. E' un po' di 45ci. E' un po' di 45ci. E' un po' di 40. Loro erano quarti, noi quinti e pari quinti, perché avevano un puntino pieno, quindi certo, un puntino pieno. Però il discorso è che la fine non è una persona potente aiutare il sesto posto perché non ci quinta arrivare. Tanto la quarta non ci fa quanto di dover. Ci arriveremo quarta e quinta con la lua. No, non puoi andare ancora a fare la bordeca. Non puoi scommettere che la fanno. Abbiamo comprato un alcol testo. Uno, uno, la giochi dopo, la giochi quella dopo. Se mi arrivi a uno e due giochi, se no giochi quella dopo. Oh, ma i Gremlins quando nasceva la creaturina? Gli volontari sono a posto. Vado a abitare a casa di Sgave, la Frida. Così, oltre a dare il nuovo nascituro, mi danno da mangiare anche a me. Qual è? Io sto riprendendo, adesso uscirà come audio. Abbiamo ricevuto l'invito per US Open. Ah, la FOT ha ricevuto l'invito per US Open? No, i Gremlins. Quest'anno? 2018. 2017. 2017, prossimo anno. Quindi ragazzi sintonizzatevi su ESPN per vedere la fotta che prende delle mazzate al campionato American. Davide, chi sono gli americani che potete battere onestamente? Da 8 a 16 scopartono, dalla 9 alla 16. Molte prime 8 sono 8. Le prime 8 sono 8. Le prime 4 sono 8. Le prime 4 non le 2 neanche, le prime 4 non le 2 neanche. sono gli occhi, gli occhi non è che ci sono non è che ci sono è che ci sono è che ci sono L'unico è l'ense Il prossimo anno ragazzi per la sericina Bisogna chiedere il disco Si va a chiusi now Brava cazzo Sai 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 Brava Dai venga sta chiaro La rara era un po' il pettone La rara era un po' il pettone Ciccio peperoni e i bimbi morti lo tengo qui La rara era un po' il pettone Grazie Grazie